Allora siamo qui con i vincitori di questa Coppa Lombardia, Famiglietti, Papa e Pedroni, non a caso uno per reparto perché oggi ha funzionato praticamente tutto, no? Sì, sì, abbiamo giocato molto bene, soprattutto nel primo tempo e abbiamo seguito quello che c'era il ministro Abate Orlandini e siamo riusciti a vincere ancora. A centrocampo poi loro praticamente di passaggi 3 o 4 di fila facevano fatica a farne, avete funzionato benissimo, no? Sì, sì, siamo stati bravi, abbiamo prestato bene, abbiamo mostrato la palla velocemente, quindi siamo stati bravi, abbiamo seguito le indicazioni del ministro. Molto bene, poi il reparto offensivo che è quello che ha risolto la partita tra Pedroni e Zimta, una partenza sprint, no? Fortissimi, subito a cercare la rete, quali sono poi le sensazioni di questa vittoria? No, è bello, il merito è sicuramente di tutti, come ha detto il mio capitano, abbiamo seguito solamente quello che ha detto il ministro Orlandini e Abate e quindi ha ragione il mio capitano, siamo partiti forti, siamo stati premiati, la cosa importante è la vittoria di tutti, noi abbiamo dato fino alla fine. Una domanda per tutti ragazzi, l'ultima, terzo titolo di fila e il quarto, allora arriva? Toccatevi però, l'obiettivo è quello. Per forza, bisogna sempre cercare di vincere. Sempre al massimo, si punta sempre al massimo. Anche l'anno prossimo ovviamente cercheremo sempre il top, il meglio da fare. Molto bene, grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie a te.